Buongiorno a lei, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Soddisfatto della fase, della fase 2 che si apre anche per il Movimento? Io sono soddisfatto quando il Parlamento approva provvedimenti per cui noi del Movimento 5 Stelle siamo stati eletti. Per cui adesso la sfida sarà fare. Devo dire che le parole pronunciate da Giuseppe Conte pochi minuti fa sono state parole chiare e a mio avviso con una forte valenza programmatica. Quando la politica diventa cultura e prospetta una visione, come mi sembra sia stato riconosciuto anche da chi era precedentemente qua, la politica fa un salto di qualità ed è questo quello che dobbiamo fare. Le cose da fare, il momento delle cose da fare, fino adesso avete fatto abbastanza nei 14 mesi del precedente governo Conte? Guardi, a me sembra un voler, diciamo così, depotenziare l'esperienza che si va a prospettare, fermo restando che credo sia doveroso un passaggio attraverso la nostra piattaforma perché è giusto che tutto il mondo degli iscritti del Movimento si esprima su questa esperienza che potrebbe realizzarsi a breve. Però a me sembra che guardare al passato sia un non cercare di capire dove si debba andare. Noi dobbiamo fare in modo, e non mi interessa chi voti i certi provvedimenti, che per esempio dalla regione da cui provengo, e cioè la Calabria, ma questo discorso vale non soltanto per la Calabria, ma per l'intero mezzogiorno, cessi quell'emorragia di capitale umano, di ragazzi laureati, fortemente scolarizzati, istruiti, che noi offriamo, regaliamo a paesi altri, con il paradosso che queste intelligenze andranno a far concorrenza alle aziende rimaste in Italia in cui magari lavorano dei loro cugini, dei loro fratelli, dei loro amici, innescando una prospettiva di assoluta competitività per cui sarà capitale umano italiano a produrre il fallimento di un'azienda magari meridionale. E allora Conte, questo l'ha detto, Conte proviene dal sud e ha conoscenza, anche perché è espressione del mondo accademico, di come questo paese debba investire in ricerca, in innovazione, in intelligenza, in capitale umano, anche per esempio valorizzando l'enorme capitale naturale e culturale del sud. Noi abbiamo uno sviluppo dicotomico, il centro nord in qualche modo ha reagito alla grande crisi del 2008-2009, il sud sta subendo una emorragia demografica paurosa e le parole di Giuseppe Conte, mi sembra, vadano in questa direzione. Ha parlato di mezzogiorno, ha parlato della necessità di riportare in Italia le migliori energie che se ne sono andate, l'abbiamo sentito in diretta. Prima ancora che riportarle, a me piacerebbe trattenere quelle che se ne stanno per andare. Quanta novità deve esserci in questo secondo governo Conte? Io credo che il movimento con coerenza abbia imposto una sua propria agenda con i dieci punti che riflettono in toto i nostri valori e i nostri intenti per come abbiamo lavorato anche in precedenza, che vi debba essere, ad esempio, un rispetto delle istituzioni, come è stato ribadito da Giuseppe Conte, è chiarissimo, è la palissiano, nella misura in cui noi vogliamo imporre delle misure per cui dalle istituzioni debbano essere allontanati soggetti che non le possano rappresentare. Le dico chiaramente che il conflitto di interessi, che è un problema che non riguarda una sola e nota persona, il conflitto di interessi sarà uno dei primissimi provvedimenti che questo Parlamento dovrà affrontare e risolvere, anche perché bonificando... Anche guardando i nuovi media, penso a Davide Casaleggio, tanto per non girarci attorno, ma il conflitto di interessi riguarda tutti, a valore, così si diceva in latino, erga omnes, è una legge e nessuno si può sottrarre al disposto di una legge. Noi in passato, e forse va ricordato, siamo andati avanti con lodi, lodi che intervenivano a scudare, a blindare qualcuno. A noi non stava bene, non sta bene, tutti quanti dobbiamo rispettare le leggi, in particolar modo gli uomini delle istituzioni. Ma non c'è soltanto questo, noi abbiamo necessità per esempio di investire in tutela dell'ambiente, in salvaguardia dell'ambiente, ma l'ambiente è qualcosa che grazie a Greta Thunberg torna ad essere all'attenzione dei media, grazie alle devastazioni nelle foreste amazzoniche torna ad essere attenzionato da tanti. Ma poi l'ambiente è quella manutenzione quotidiana che attraverso le opere dell'ingegneria verde permette ad un paese così fragile come il nostro di non subire perennemente devastazioni provocate da esondazioni, allagamenti, frane e smottamenti. Se noi facessimo questo, noi già avremmo fatto una rivoluzione, investimenti in capitale umano, in ricerca, in istruzione, come si diceva a poc'anzi, e soprattutto in giustizia, perché un cittadino dà fiducia allo Stato nella misura in cui questo fa giustizia. Ha introdotto un altro elemento, uguaglianza a diritti. Può partire un'altra stagione col Partito Democratico, di crescita dei diritti civili e sociali in questo paese, con voi e il PD? Ma il Presidente del Consiglio è stato chiarissimo, nuovo umanesimo, che discende da una prospettiva culturale che ha alcuni ancoraggi profondi in filosofi e autori che lo stesso Conte ha citato in aula e più volte. Penso ad esempio ad Hans Jonas, straordinario filosofo tedesco, che il mondo ambientalista e verde, soprattutto negli anni 90, ha conosciuto e apprezzato. Ma penso anche ad Habermas, penso anche a Martin Buber, che ha citato recentemente. Sono pensatori che hanno enfatizzato il valore della persona e questo è stato l'incipit del discorso di Giuseppe Conte. Noi abbiamo una Costituzione che mette al centro i diritti della persona e da quella dobbiamo partire per costruire reti sociali che non escludano, che non marginalizzano, che prestino attenzione al più debole e al più fragile, che sviluppino un approccio cooperativistico e non di competizione. E' più facile colpidio con la Lega? Cioè con la Lega non è stato possibile perché? E allora noi dobbiamo ricordare che questo paese ha subito per decenni politiche folli di neoliberismo competitivo portate avanti dagli uni, cioè dal cosiddetto centrodestra, e dagli altri. Io ricordo su tutti questo passaggio, quando si è votato il pareggio di bilancio in Costituzione, il voto è stato espresso a favore anche dalla Lega, che all'epoca era Lega Nord, quindi da tanti soggetti che hanno anteposto i vincoli di bilancio, la politica monetaria, ai diritti delle persone. E a me questo non garba perché se lo Stato esiste, esiste per proteggere le persone tutte ed i più deboli, perché nessuno deve essere escluso. E questo era un nostro motto del 2013 in campagna elettorale che a me piace sempre ricordare. Noi ci battiamo affinché queste siano società dell'inclusione, attraverso il rispetto delle regole certamente, e non dell'esclusione, non della marginalità. Un risultato, mi lasci dire, che voglio rivendicare con forza per il governo che si è appena concluso e di cui bisogna essere fieri, è che attraverso le regole imposte dal decreto dignità sono aumentati i contratti di lavoro a tempo indeterminato e stanno diminuendo i contratti di lavoro a tempo determinato, perché la precarietà, come dir si voglia, non è una bella condizione in cui far vivere i nostri giovani. Senatore, ancora un paio di cose, poi la lascio al lavoro, la Presidente della Commissione Antimafia. Abbiamo parlato di tanti temi, cose da fare, questioni importanti, diritti, lavoro, ambiente, mezzogiorno, energie da trattenere in questo Paese. Si può fermare questo per le ambizioni personali di qualcuno? Assolutamente no, anche perché per i nostri valori e per la coerenza agli stessi nessuno di noi antepone il proprio ego al progetto collettivo. Noi siamo nati per restituire a questo Paese una speranza, speranza che era andata persa a causa decenni di malgoverno e di pessima gestione delle istituzioni. Adesso, con difficoltà certamente, avendo fatto anche degli errori, stiamo recuperando la china. Per cui, sempre barra dritta, e come è stato ribadito, nessuno ha intenzioni di legarsi a poltrone. Bensì noi siamo quelli dei progetti, dei programmi e dei valori. E, mi lasci dire, non soltanto enunciati, ma realizzati. Io poc'anzi le ho ricordato, l'inversione fra contratti di lavoro a tempo indeterminato e contratti di lavoro a tempo determinato, quello è un risultato, così come è stato un risultato il conferimento del reddito di cittadinanza, così come è stato un risultato l'anticorruzione che finalmente, anche attraverso i Trojan, permette a questo Paese di sapere di più di quelli che corrompono lo stesso. Vi chiedono al PD di discontinuità. Cito un tema. Decreti sicurezza 1 e 2. Vanno rivisti? Si possono rivedere? I decreti sicurezza potranno certamente alla lunga essere migliorati. Intanto bisogna governare il più complesso fenomeno dell'immigrazione, lavorando sulle cause che le generano, perché i decreti sicurezza intervengono su quei soggetti che provano ad arrivare attraverso il Mediterraneo nel nostro Paese. E se invece con intelligenza investissimo in cooperazione internazionale, facendo crescere quei Paesi africani da cui si originano questi flussi, anche perché mi lasci dire, qui tutti quanti proviamo pietas quando sappiamo di una tragedia in mare, perché non c'è nessuno che, mi lasci dire, con cinismo non ha un pensiero di pietà nei confronti di quei corpi e di quei cadaveri, ma di quelli che muoiono per esempio attraversando il deserto, ne vogliamo parlare, o di quelli che muoiono in Paesi in cui non è neanche possibile partire. E allora se vogliamo costruire un mondo diverso e un'Europa diversa, noi non possiamo non favorire la crescita sia del continente nero, sia di alcuni mondi asiatici, perché ricordiamoci che anche dall'est asiatico provengono delle persone. Ancora due cose, la prima che le voglio chiedere è senza l'intervento di Beppe Grillo forse non sarebbe nata questa possibilità di governo? Beh, senza l'intervento di Beppe Grillo non ci sarebbe stato il Movimento 5 Stelle. Mi lasci dire, forse molti che volevano conservare tanto potere maledicono ogni giorno Beppe Grillo. Io lo ringrazio perché con una ostinazione tipica soprattutto di noi genovesi, me lo lasci dire, è riuscito contro tutti e contro tutto ad ottenere dei risultati formidabili. Io adesso voglio vedere chi magari fra qualche tempo volesse recedere dalla concessione del reddito di cittadinanza, che a mio avviso, lo dico, dovrà anche essere ristrutturato, perché in un mondo futuro in cui l'intelligenza artificiale, anche attraverso la meccanizzazione, produrrà fortissimi cambiamenti nel mondo dell'occupazione, noi dobbiamo pensare sempre più ad allargare questa platea di soggetti che potrebbero essere interessati appunto al lavoro. E bene ha detto Giuseppe Conte nel restituire centralità al lavoro, perché il lavoro è dignità e non può essere passività, non può essere meccanicità, il lavoro deve tornare ad essere creatività ed intelligenza. Domandiamoci quante occupazioni in Italia sono ripetitive e seriali e quante invece sono espressione del genio italiano. Il nuovo umanesimo vuol dire questo. E mora, l'ultima cosa che le chiedo, ma non era il PD di Bibiano? Gliela metto proprio così, perché è una roba che gira in rete, io gliela dovevo chiedere. È il PD che ha gestito tante incrostazioni di potere, esattamente come la Lega ha fatto altrettanto. Adesso la sfida che noi vogliamo porre al sistema partitocratico tutto è che facciamo queste cose, perché è anche nel vostro interesse pulire la vostra immagine costruendo un paese in cui le differenze sociali sono meno marcate, in cui anche i diritti dei minori e delle famiglie sono più tutelati, in cui nessuno può essere oggetto di quelle vessazioni e di quelle violenze che, stando alle carte dei magistrati, si sono consumate anche a Bibiano.